Sì, pronto? Ti ucciderò Sto arrivando Basta! Basta! Ti ucciderò Bastardo! Bastardo, lasciami in pace, maledetto, bastardo! Tesoro, sono io, calmati, è tutto a posto Caro sei tu Ti prego, torna a casa subito, quel maledetto maniaco continuare a chiamare Calmati, amore, invoco la highway e tra un'ora sono lì Chi invocchi? Pronto? Pronto? Buonasera, lei è la signora McNamara? Sì Suo marito è Anthony McNamara? Sì, perché? Beh, signora, c'è stato un brutto incidente Oddio, mio marito è ferito No, è più grave, signora Oddio, è in coma No, è più grave, signora Oddio, è morto No, è più grave, signora Oddio, è più grave di morto No, no, scherzavamo, è morto Ma non è possibile, gli ho parlato un attimo fa al telefono Beh, vede, signora, un'autopattuglia di poliziotti ubriachi è uscita di strada e ha distrutto la cabina telefonica dove si trovava suo marito Ma quale pattuglia? La nostra Ma non è possibile Come no? Guardi qua Ma è sinistra! Veramente a noi sembrava la destra Comunque Comunque grazie, gente Grazie per avermi avvertito Sì, pronto? Sally, sono Jenny Oh, Jenny Hai sentito il notiziario? Sì, ma so Oh, sì Hai saputo? È terribile, è terribile Cerca di stare calma, Sally Salto immediatamente in macchina In bocca la streetway e sono subito da te Anche tu in bocchi? Ma chi? Chi? Buonasera Lei è la signora McNamara? Sì, sono io Jenny Ballou è sua amica? Sì, perché? Beh, signora, c'è stato un brutto incidente Oddio, no! Beh, sì Un'autopattuglia di poliziotti ubriachi L'ha investita mentre telefonava Ma non è possibile Era in cucina L'hanno investita in cucina, infatti Ma chi l'ha investita? Ma noi, signora! Ma voi Non siete poliziotti Voi siete